Ciao ragazzi, sono Francesco, sono venuto qua all'Usebio Smile Studio in Antalya, in Turchia. Per sistemare i miei denti ho messo 10 crown sopra e 10 sotto. Mi sono trovato benissimo, soprattutto in clinica sono stati molto gentili, generosi, quindi soprattutto l'organizzazione è stata perfetta, impeccabile. Che dire del posto, il posto è fantastico, ovviamente la clinica è in fronte al mare, quindi vi potete rilassare, è come se fosse quasi una mini vacanza e in più vi sistemate i denti. Non vi resta che dire venite e get your tea done. Grazie a tutti.